Ciao a tutte ragazze e bentornate con un nuovo video tutorial di nail art in un minuto pollice in su se vi piace questo genere di video, seguite il tutorial per capire come si fa questa nail art e iniziamo il tutorial, vado a stendere la base protettiva e lascio asciugare dopodiché vado a prendere due smalti, ho scelto due colori, un azzurro e un celestino chiaro vado a utilizzare uno di mini eye e l'altro di debbie e vado a stendere quello più scuro a destra con una passata bella abbondante e senza far asciugare quello a sinistra più chiaro senza aspettare vado a prendere uno sozzicadenti, un bastoncino d'arancia, quindi un attrezzo a punta e vado a ricreare una spirale mescolando così i due colori l'ultimo passaggio sarà quello di stendere il top coat e il risultato finale della nail art sarà questo nei commenti fatemi sapere se vi piace, condividite il video su facebook e se ricreerite la nail art mi raccomando taggatemi su instagram o sui social un bacione a tutti e al prossimo video!